Adesso è una corsa proprio al rifornimento. Adesso per un mese vedrà che la gente, tutti si riforniscono, terranno le scorte dentro casa, con i fusti, con le taniche, per risparmiare qualcosina. Questo è il problema. Anche a Fano iniziano a vedersi gli effetti dei decreti entrati in vigore martedì scorso. Finalmente diesel e benzina sono scesi sotto i 2 euro al litro e in alcuni impianti si toccano i livelli precedenti alla guerra in Ucraina. Un sollievo generale per i consumatori, anche se lo sconto durerà soltanto 30 giorni, ma il governo ha stabilito che un'eventuale proroga potrà essere decisa con un semplice decreto ministeriale. Intanto prezzi giù anche di 30 centesimi, trattaglio delle accise di 25 centesimi ed effetto indiretto dell'IVA. Per evitare possibili speculazioni sono stati rafforzati i poteri di controllo del garante dei prezzi e della guardia di finanza. Chi è venuta più a fare il pieno, chi porta via con le tanniche, perché tanto entro il 22 di aprile ritorna tutto normale, non so questa economia come andrà a finire, perché con questo prezzo che abbiamo adesso della benzina, a parte noi gestori ci danno una sciapata, che con l'aumento della luce, l'aumento di tutte le cose che ci hanno aumentato, non ci stiamo più dentro. Poi se uno ha degli operai, il costo degli operai costa una roba esagerata. Noi alla fine, o prima o poi, dobbiamo chiudere, insomma dobbiamo andare via. Invece una volta, questo era un distributore che ci viveva due famiglie, ci viveva benissimo. Oggi come oggi, invece, ti stiamo tirando la cinghia. Infatti, ha spiegato Letizzi, le commissioni sulle transazioni effettuate con le carte di credito rappresentano un costo importante per noi gestori. D'altra parte, le istituzioni non ci aiutano. Dopo mezzogiorno, dalle quattro in poi, ci hanno dato l'autorizzazione di calare questi 30 centesimi, si è visto subito un flusso di gente superiore da prima. Se no, si lavora solamente un'ora alla mattina e un'ora alla sera, quando la gente esce dal lavoro. E se no, durante il giorno qui, si giochiamo alle carte. Noi, ha poi raccontato il gestore, ci riforniamo due volte a settimana, di solito il martedì e il venerdì. E il prezzo va dai due centesimi sul self-service e quasi tre centesimi sul servito. Noi lavoriamo con il piccolino, con le macchine, piccoli camioncini, piccoli artigiani, questa gente qua. E adesso, per fortuna, c'è questo 110 che ha dato il governo, bene o male, un po' sull'edilizia si è mosso un po', ma roba da poco. Non è che ci sia molto lavoro, né per me e né per gli altri. In più, i distributori sono aumentati, invece di diminuirli sono aumentati. Io non capisco perché il Comune e il Governo dà tutta questa autorizzazione di aprire questi impianti che non servono a niente, a fin di conti. In questo momento, ha concluso Letizzi, il prezzo è leggermente diverso tra i vari distributori della zona, ma dipende anche dalla qualità del prodotto. Chi ha il biodiesel, chi ha invece il diesel normale, il diesel raffinato con l'additivo dentro, ma la gente questo non lo sa, che dopo costa qualche centesimo in più e la compagnia te lo mette qualche centesimo in più. Perché oggi ci sono le macchine, l'Euro 5 e l'Euro 6, che non è che va con il biodiesel, va con la roba buona. Questo è il problema. Grazie a tutti. Grazie a tutti.